C'è un dilemma ciclico, un dilemma che riguarda il mese di aprile e che oggi andremo a sviscerare, andremo a comprendere appieno. C'è un dilemma che dovrà essere svelato perché dobbiamo capire se il mese di aprile in effetti potrebbe essere un mese un po' difficile per una serie anche di criptovalute, non soltanto per Bitcoin, faccio a dire la verità, più per le criptovalute, ci sono alcune che andremo a vedere oggi che chiamano in pratica una fase delicata proprio nel mese di aprile. Però ci sono dei segni ambivalenti da questo punto di vista e quindi è un dilemma, non è così chiara la view e possiamo trarre delle conclusioni che secondo me potrebbero stupire moltissimi e far comprendere che in effetti ci potrebbe essere un'altalena anche estremamente entusiasmante proprio nei prossimi mesi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e mentre qualcuno di voi si iscrive al canale in questo momento io lancio la moneta di Bitcoin, è uscito tra l'altro la B di Bitcoin, quindi si sale secondo la moneta, nella prossima settimana vedremo. Però in linea di massima il video di oggi vuole essere un video prettamente dedicato all'analisi ciclica, allo studio di quelli che possono essere messe di marzo e di aprile perché sulla base di una scadenza ciclica importante ad aprile, una scadenza di un ciclo maggiore abbastanza pronunciata, di solito produce movimenti pronunciati, si potrebbe andare a innescare una fase depressiva soprattutto per le criptovalute, alcune in particolar modo che andremo a vedere oggi, ne ho segnate alcune le classiche ovviamente, Binance Coin, andremo a vedere Solana, andremo a vedere anche Link e anche altre un po' più da nicchia come AVAX o HBAR, però poi vedremo anche ETH per esempio e Bitcoin chiaramente che chiamano anche sì questo fase ribattista però non la chiamano in maniera estremamente pronunciata e soprattutto non nei primi giorni di aprile, quindi alta lena su e giù, su e giù, che potrebbe in effetti andarsi a verificare. Andiamo a fare un po' uno studio ciclico, uno studio di ipotesi, uno studio un po' diciamo così, da analisti, diciamo in questo modo che può essere interessante, quindi andremo a vedere i dati attuali però parliamo di previsioni in questo video, quindi tutto da prendere con le pinze ma serve un po' ad avere idea generale se assisteremo appunto a questa alta lena di che cosa sta succedendo e può essere carino, interessante ogni tanto andare a fare questi tipi di video. Allora vi faccio poi vedere anche la super news invece che abbiamo affrontato questa settimana, la nostra Academy che è riaperta per la settimana anche nell'anno 2024, fra tre giorni chiude, quindi ultimi tre giorni per approfittare dell'opening dell'Academy Trading Onno e soprattutto con degli sconti a vita lifetime fino a quando l'abbonamento verrà mantenuto attivo. Per quanto riguarda il trimestrale per la prima volta fa capolino l'abbonamento annuale super scontato in questo caso, solo tre giorni però poi si richiude ragazzi, quindi non vi fate scappare questa occasione e in particolar modo lunedì ultimo giorno proprio la deadline finale per l'ingresso in Academy. Analisti, analisi tecnica, analisi ciclica, trading system, quello che faccio io, tutte le mie strategie, quello che fanno gli altri analisti, alcune strategie intraday, gli alert per quanto riguarda gli airdrop, dove sono, come fare, le guide eccetera, alcuni mini guide sull'analisi ciclica, tutorial per quanto riguarda i vari exchange, insomma un mucchio di roba all'interno dell'Academy, entrate solo se siete formati e sapete già cos'è l'analisi ciclica, altrimenti vi serve il corso perché Academy è la nostra Academy operativa, quindi lì si opera davvero, dovete essere già un po' formati. Mi raccomando non vi fate scappare questa occasione, partiamo in questo caso dello studio di Bitcoin per quanto riguarda l'ambiguità del mese di aprile e ragioniamo solo da un punto di vista ciclico. Allora, la struttura dei cicli di Bitcoin è stata abbastanza strana in questa struttura annuale, infatti qui abbiamo ancora una volta l'idea che si possa essere, possa essere stato chiuso un ciclo annuale il 12, l'11 di settembre, che però era corto, quindi facente parte in pratica di un biannuale e a forma anomala. Però ragioniamo invece solo sulla questione legata ad aprile. In sostanza esiste un ciclo che Bitcoin e le criptovalute, ma anche gli altri asset finanziari in generale, va a completare, che è un ciclo che viene definito ciclo semestrale, cioè la metà di un ciclo annuale. È solitamente un ciclo abbastanza ripetitivo, cioè tra le varie strutture cicliche che ci sono, il ciclo semestrale è forse quello più ripetitivo di tutti, cioè quasi sempre gli asset finanziari vanno a creare un ciclo a scadenza semestrale, più o meno qualche giorno ovviamente, però fanno più o meno quella chiusura, a differenza magari di altri cicli che sono un po' più anomali. In questo contesto specifico, teoricamente, la metà di un ciclo annuale che Bitcoin di solito va a sviluppare intorno ai 400-450 giorni, dovrebbe essere, dovrebbe cadere proprio nel mese di aprile, intorno appunto a questa zona di fine aprile, che dovrebbe essere intorno ai 230 giorni, quindi fine aprile del 2024. Ciò significa in cosa, in teoria? Che da questo punto in poi, teoricamente, il mercato potrebbe andare a fare una cosa del genere. C'è però un'anomalia, che già ve l'anticipo, la vediamo tra poco, un'anomalia che ci pone anche l'idea di poter assistere a un'altalena. Per altalena io cosa vado a ragionare? Ragiono questa su altalena, uno e due. Ok? Una cosa del genere. Quindi questa, diciamo, teoria dell'altalena c'è, e c'è sulla base di cicli inversi, soprattutto per quanto riguarda ETH, non li vedremo oggi perché sono un po' complessi, poi si va a complicare, insomma, il video, però mi interessava spiegarvi che comunque questo scenario è possibile, in particolar modo, quindi, teoricamente, il mese di aprile potrebbe contenere la fine del mese di aprile, non l'inizio, la fine del mese di aprile potrebbe contenere una fase ribassista dei mercati. Non soltanto la fase di ribasso su Bitcoin, ma soprattutto la fase invece di ribasso per quanto riguarda altre criptovalute. Andiamo, per esempio, a fare il punto della situazione andando a guardare alcune cripto che vi ho già messo qui in evidenza, così le ricordo. Allora, in particolar modo, per esempio, abbiamo AVAX. AVAX ha iniziato una struttura di ciclo annuale dal minimo di ottobre, 19 ottobre 2023. Interessante perché precedentemente la cripto era sempre scesa, aveva fatto una struttura abbastanza lunga in questa zona qui di questi cicli tutti ribassisti. La struttura invece di questo ciclo annuale è iniziata abbastanza violenta, molto bella, devo essere sincero, e ha portato la criptovaluta verso i massimi di zona 50 dollari. Ora, cosa è successo? Qui, sul minimo del 23 di gennaio, è iniziata la struttura del trimestrale. Però anche questa criptovaluta, al di là della questione del trimestrale, dovrebbe andare a chiudere la metà appunto del suo ciclo annuale vicino la mese di aprile, che poi tra l'altro è fino aprile i primi di maggio, per essere precisi. Quindi questa zona qui. Teoricamente cosa significa? Che se, qui è evidente già la questione altalenica, chiamiamola così, se questa zona sta attirando i prezzi in una spirale ribassista, potremmo assistere a una cosa di questo tipo. E quindi i prossimi mesi, il mese di marzo, essere un mese complesso a livello di sviluppo. C'è però, c'è però la questione dell'altalena, che vi dicevo, scusate ragazzi, stavo affogando, mi stavo affogando e sono sopravvissuto, però vabbè. Allora, detto questo, allora c'è la questione dell'altalena, che vi dicevo perché, perché una ripresa al di sopra di questo livello di pricing 43, in questo contesto, quindi nella prossima settimana, dopo l'inizio di febbraio, in pratica sancirebbe la possibilità di ritest di questo massimo, e quindi la fatidica altalena che si andrebbe a sviluppare proprio in questo modo, che quindi lascerebbe spazio ad una prima ondata rialzista, che dovrebbe svilupparsi per tutto il mese di marzo, fino alla prima parte di aprile, quindi i primi giorni di aprile, per poi concludersi invece con un aprile ribassista, quindi dai primi giorni in poi, fino alla chiusura di questo ciclo. Quindi entrambe le view sono valide, ma nei prossimi giorni si svela l'arcano, perché se andiamo in pratica ad accelerare, dopo la prima settimana di febbraio, quindi verso mars, eccetera, andiamo ad accelerare al rialzo, e soprattutto su cripto come queste, come AVAX, che ci sono dei livelli anche di analisi tecnica estremamente evidenti, molto semplici anche da utilizzare per dei trade, per esempio, se da qui si va a strutturare un rimbalzo, un ritorno sopra quota 44-45, allora il tentativo di poter fare la cosiddetta altalena c'è, e che cosa ci dà questa informazione? Ci dà la possibilità di tradare due fasi alterne, proprio fino ad aprile, cioè una la fase di eventuale altalena che va su, e poi la fase down finale, altrimenti cosa succede? Se da qui noi andiamo a cincischiare, e poi perdiamo tempo senza superare questo livello di massimo 45, e ci avviciniamo già poi a metà marzo, fine marzo, allora da qui è difficile che il mercato poi andrà a salire, per fare questo tipo di logica, quindi andrà probabilmente prima a chiudere il ciclo semestrale, e dopodiché, dopo la chiusura del ciclo semestrale, andrà a riprendere probabilmente un nuovo trend. Attenzione perché questa struttura ciclica ci chiama anche un possibile buy in termini di momentum temporale, cioè la chiusura di un ciclo semestrale, se non è molto acuta, come sembrerebbe in questi contesti, non dovrebbe essere molto acuta, potrebbe chiamare proprio l'inizio di una fase interessante. Perciò i prossimi mesi, soprattutto la prossima settimana, devo essere sincero, è perché dobbiamo comprendere se ci sarà forza per questo sviluppo, e poi dalla prima decada di aprile in poi, saranno interessanti nel prendere alcune posizioni, e ragionare su queste cose. Quindi queste sono le due ipotesi che molte altre criptovalute stanno andando a sviluppare. Vi faccio vedere per esempio anche altre criptovalute, Solana dove sei l'ho persa, eccola qui, Solana anche lei sta facendo la stessa struttura, notate come tra le altre cose la struttura è molto simile ad AVAX, perché anche se AVAX ha un massimo superiore, e poi un massimo inferiore molto più acuto, la stessa cosa più o meno ha fatto Solana, con questo massimo qui, e poi questo massimo leggermente inferiore. Stesso costrutto, stesso tipo di operatività, però c'è da dire un'altra cosa, il ciclo di Solana in termini di semestrale, dovrebbe essere o potrebbe essere anche la chiusura di un annuale su Solana, che porta la data di più o meno il 7-8 aprile, quindi in questo caso c'è un'anticipazione teorica di qualche giorno, quindi Solana potrebbe essere un faro, tra virgolette indicando anticipatamente quello che probabilmente altre cripto andranno a fare, di quanto? Di una o due settimane. Interessante questa cosa, perché l'abbiamo già usata altre volte nei nostri video, andando a vedere per esempio alcune cripto come Binance Coin, mi ricordo tempo fa, che erano anticipatorie, e questo è interessante perché ci può fare anche vedere, quello che può succedere su altre cripto come appunto AVAX o altro che vi ho fatto vedere precedentemente. Allora, questa zona su Solana a livello tecnico è la stessa, ora su Solana l'ipotesi di un'altalena teoricamente non dovrebbe esserci, perché? Perché l'altalena l'avrebbe già fatta, ed è esattamente questa fase qui, che però non è riuscita a breccare nuovi massimi, tale da fare una cosa del genere. Perciò sostanzialmente, se da qui proprio non accelera, entro lunedì e martedì, a fare una cosa del genere, potrebbe tranquillamente continuare a fare un trend laterale ribassista, e poi andare in chiusura, tutto il mese di marzo e aprile, di questa struttura ciclica. Quindi ancora una volta, anche qui c'è un po' un'anomalia che va controllata. Solo superamenti di questa zona indicherebbero che questa view risulta essere un po' compromessa, e quindi qui magari c'è stata una chiusura di qualche ciclo di cui non ci siamo accorti, o roba del genere. Quindi poi lo andremo a guardare in quel discorso, se dovesse succedere diciamo questa cosa. Io tra le altre cose ancora non ho tratto Solana, perché sono in attesa di questa chiusura annuale. Ahimè, purtroppo, per fortuna altre cripto sono andate bene, tra cui anche AVAX per esempio abbiamo raddoppiato, però Solana non l'avevo mai presa per via di questo ciclo un po' anomalo, no, mi piaceva più di tanto. Peccato è che è una delle mie coin preferite di tanti anni fa, e quindi era stata diciamo abbastanza bullish. Andiamo a vedere altre criptovalute che avevo preso in considerazione per oggi, link poi vediamo anche BNB. Allora, link per esempio, anche link ha una struttura abbastanza, abbastanza particolare, perché ha questa struttura tecnica di semestrale già chiuso. Quindi, a differenza delle altre, ecco qui, insomma, giusto se può essere visibile una chiusura classica di un semestrale, questa è una chiusura di un ciclo semestrale, in questo caso 212 giorni, 210 giorni per quanto riguarda link. Quindi, in teoria, in teoria, questa criptovaluta ha un andamento anomalo. A differenza, per esempio, di Solana, che può essere anticipatorio perché dovrebbe andare a chiudere un ciclo annuale, questa criptovaluta dovrebbe essere più resistente e dovrebbe chiudere, in pratica, un trimestrale semplice poi ad aprile, perciò, teoricamente, potrebbe essere più evidente sul link un'eventuale creazione di un effetto altalena, cioè fare, appunto, una cosa di questo tipo. E dovrebbe essere una criptovaluta che ci dà più segnali della formazione dell'altalena in quanto ha già chiuso il semestrale, e quindi la pressione ribassista dovrebbe essere inferiore rispetto alle altre criptovalute. Questa cosa, anche qui, si vedrà in maniera molto semplice, il superamento di quota 20-21 dollari innescherebbe l'effetto cosiddetto altalena per fare una cosa di questo tipo. Interessantissima anche la visione di Link, proprio perché vi sto portando in questo video tutte criptovalute che sono un po' diverse l'un l'altro, appunto per vedere quelle che sono alternative, e soprattutto alcune sono anticipatorie, quindi Solana leggermente dovrebbe avere una tendenza di bastista, Link più rialzista, invece AVAX nel complesso similare alle altre, quindi quella, diciamo, che dovrebbe essere la più similare al movimento medio. In generale andiamo a vedere BNB, che era anche estremamente interessante perché BNB ha proprio un'evidente struttura di, diciamo, semestrale che deve andare a chiudere proprio verso fine aprile in questa zona qui. Ora, la strutturazione di BNB è stata da un ciclo da 108 giorni fin qui e poi, teoricamente, dovrebbe spingersi verso fine aprile a chiudere questo semestrale. In pratica, dove siamo con BNB? Siamo nel spuntone più ampio di questa struttura da altri 100 giorni circa. Ora, i precedenti cicli li ha strutturati più o meno a 50 giorni, in questo caso avremo quindi un 50 giorni che chiude a metà marzo, potrebbe essere visibile da qui proprio il cosiddetto effetto altalena. Ribasso per qualche giorno, poi dopodiché ripresa in questo modo e chiusura del ciclo semestrale anche per Binance Coin. Interessantissima Binance Coin. Secondo me la più interessante di queste perché può essere, può indicare proprio i veri movimenti del mercato in maniera più precisa, quasi tagliente, perché in questo contesto anche di analisi tecnica una cripto che ha fatto dei movimenti interessanti portandosi per esempio al ridosso del livello di resistenza più importante che sono 400 dollari, quello che aveva bloccato in pratica tutto il movimento post bear market. L'assuperamento di 400 dollari per quanto riguarda Binance Coin poi libera la strada intanto ai 450 e poi a diversi tipi di step successivi che però innescano comunque è un bull market perché fin tanto che siamo in questa zona questa è ancora una barra teoricamente di congestione. Quindi andiamolo a guardare quindi il BNB sicuramente importante. Adesso passiamo a vedere ETH perché ETH ha anche lei questa struttura molto ambivalente e cioè la chiusura di un ciclo semestrale però c'è da dire che a livello di cicli inversi ETH ha dato un'indicazione che vi dico qui in maniera semplice di possibile inversione sul ciclo inverso e che quindi la forza di queste due settimane anche su Bitcoin potrebbe essere quella decisiva per dare il famoso breakout anche su Bitcoin e ritornare forte come noi stavamo aspettando già da un po' di tempo. In realtà questa cosa ancora non è avvenuta bisogna ancora attendere però qualche avvisaglia c'è forse con qualche leggero ritardo rispetto ad un'altra tese però potrebbe in effetti avvenire una cosa del genere. Attenzione perché a quel punto anche per me ETH diventerebbe una cripto estremamente importante nel mio portafoglio holding come lo è stata nella precedente bull run. Allora questa zona in sostanza questa zona qui 100 e passa giorni quindi abbiamo ancora una volta 200 giorni circa di semestrale che va in chiusura a maggio i primi di maggio quindi fine aprile primi di maggio quindi teoricamente anche su su Ethereum se questa view questo Ethereum diciamo è identico alla questione di AVAX dovesse coincidere con una struttura ribassista potrebbe durare tanto tempo mi sembra un po' eccessivo e fare la chiusura del semestrale oppure ancora soluzione ad altalena che è quella più forze comune chiusura del ciclo mensile tra poco dopodiché va a riprendere il tentativo di fare nuovi massimi spostarsi qui prima di chiudere definitivamente il semestrale e quindi fare una cosa del genere in pratica effetto altalena anche su Ethereum se fa l'effetto altalena questa struttura realzista che dovrebbe avvenire o potrebbe avvenire nei prossimi dieci giorni circa potrebbe innescare l'inversione di trend di ETH proprio nei confronti anche di Bitcoin e quindi riportarla in un trend positivo di breve medio periodo contro Bitcoin facendola ridiventare teoricamente punto di riferimento di un eventuale alt season per i prossimi mesi bene detto questo vi ho dato una serie di spunti di riflessione credo estremamente importanti estremamente operativi lasciatemi i pollicioni in su vi ricordo l'Academy ancora aperta noi vedremo tutte queste criptovalute le terrò sempre sotto stetta osservazione tra le altre cose mi interessavano BNB Solano ovviamente ed Ethereum proprio per anche diciamo la loro configurazione tecnica in questa fase cosa ne pensate voi fatemelo sapere nei commenti buon weekend a tutti noi ci vediamo nel prossimo video ciao